Sport e solidarietà Il fiamme gialle è stato il siepista olimpico Iuri Floriani, 35enne atleta delle fiamme gialle, a tagliare per primo il traguardo della 12 km in 36 minuti e 4 secondi, assicurandosi così il successo nazionale. La prova femminile è stata vinta dalla 26enne Sara Bottarelli a Brescia. Al di là di risultati e classifiche, una festa di sport coinvolti pure i detenuti in Sicilia, Ragusa, Enna e Palermo. Dopo Lampedusa l'anno scorso, il Via Epodisti in questa edizione è lanciato da Pozzallo, città che ha accolto negli ultimi anni migliaia di migranti. Per una volta Pozzallo è al centro dell'attenzione, sicuramente Pozzallo lo merita per quello che ha fatto in questi anni e da questa città parte questo messaggio di solidarietà e di accoglienza. 65.000 persone in tutta Italia per la manifestazione organizzata dalla UISP Unione Italiana Sport per Tutti, per correre o camminare in nome dei valori della pacifica convivenza e dell'inclusione sociale. Se uno sta bene con sé, sta bene anche con gli altri, si può raffrontare con gli altri, può andare avanti e fare passo dopo passo, cercare una vita migliore.